Qual è la situazione lì che si dice? Ti devo dire che praticamente Tunkara è fra i cedibili in questo momento della stagione. Il Cittadella vorrebbe rivoluzionare il riparto offensivo, vorrebbe prendere uno o due attaccanti e magari liberarsi di uno o due di quelli che sono al momento le punte a disposizione. Il Cittadella ha avuto l'infortunio di Baldini che ha completamente scombinato i piani della stagione. Poi c'è stato anche l'infortunio di Asensio che ha avuto un annebbiamento temporaneo. Asensio è stato fuori quasi 40 giorni, poi ci ha messo altri 10 per tornare. È chiaro che se tu togli praticamente due terzi dell'attacco titolare ad una squadra vai in difficoltà a qualsiasi squadra. Tunkara ha fatto vedere qualcosina nel corso del campionato, ha avuto anche dei momenti di pausa. È un giocatore secondo me che in B fa abbastanza fatica o comunque ha una resa non consona al suo valore. In C secondo me è il suo campionato ed è un giocatore che può fare la differenza. Ci descrivi un po' le caratteristiche Dimitri? Perché sappiamo che Rastelli predilige attaccanti abbastanza fisici, però anche dinamici, che siano bravi sulle palle alte. Tunkara l'abbiamo visto con la Viterbese, però se ce lo spieghi un po' meglio tu che ce l'hai vicino. È una punta tipica, una punta che può fare sia il centravanti che la seconda punta. È un... hai descritto le caratteristiche perfette di Tunkara. È quel giocatore fisico che magari ha anche un minimo di tecnica e non solo forza muscolare, che può avere la possibilità anche di far vedere quelli che sono le sue doti tecniche. Ecco, io credo che Tunkara sia un giocatore abbastanza completo. Anche di testa non è male. È una punta che un attacco a due punti può fare la prima, può fare la seconda. Devo dire, insomma, che è un giocatore abbastanza duttile e che può essere impiegato anche in diversi momenti della partita. Ma, ti dico, col Cittadella è difficile fare gli affari perché è una bottega cara. Marchetti si fa pagare i suoi giocatori. Io non so che idee abbia nei confronti di Tunkara. Io so che è difficile che un giocatore venga ceduto a zero euro o comunque qualcosa deve ricavarne. Io penso che la tempistica potrebbe essere relativamente breve. Cioè, nel senso, io so che qualcosa vuole fare già entro la prima metà di gennaio. Per cui questo, ovviamente, se andasse in porto la cessione, è chiaro che lui andrebbe su qualche altro giocatore.